Alcune nazioni hanno fatto sforzi importanti che non possono non essere computati nella maniera corretta e non possiamo ragionare di un taglio che sia uguale per tutti, a prescindere da quello che è già avvenuto con grande sacrificio. La soluzione della diminuzione degli agrofarmaci, dei pesticidi, deve essere in linea con la possibilità di continuare a produrre. Non siamo d'accordo sulla riduzione delle produzioni perché a parità di consumo noi saremo costretti in quel caso a comprare prodotti da nazioni che usano quantitativi di pesticidi ben superiori a quelli che attualmente usano i nostri agricoltori. Per questo ribadiamo la posizione dell'Italia che è chiedere una riflessione complessiva sul mondo dell'agricoltura, ricerca, innovazione e anche un stanziamento economico adeguato che non faccia rigadere i tagli o i nuovi meccanismi su il loro reddito. Se noi vogliamo avere una produzione agricola adeguata al consumo europeo che metta i nostri agricoltori nella condizione di sopravvivere, dobbiamo porci il problema che ogni regola corrisponde a una necessità di stanziamento da parte dell'Europa che sostenga le politiche agricole nel nostro continente. Altrimenti metteremo in discussione il nostro modello produttivo e per quanto riguarda l'Italia questo non è possibile.